Sul tema della regionalizzazione o per meglio dire della autonomia differenziata si stanno chiarendo alcune cose ma restano ancora parecchi interrogativi. Dopo la confusione dei giorni scorsi adesso un punto è chiaro. A meno di sorprese dell'ultima ora, nella giornata di giovedì 14 il Consiglio dei Ministri dovrebbe recepire l'intesa sottoscritta mercoledì fra la Regione Veneto e il Ministero dell'Economia. Al momento attuale non si conoscono ancora i particolari relativi al settore istruzione per il quale resta da definire il trattamento che verrà riservato al personale docente e ata. Le ipotesi sul tappeto sono sostanzialmente tre. La prima prevede il passaggio di tutto il personale alle dipendenze delle Regioni ma si tratta di una soluzione complessa e di difficile attuazione. Una seconda possibilità prevede che il personale già in servizio resti a carico dello Stato mentre il nuovo personale sarà assunto dalla Regione. C'è però una terza soluzione. Il personale resta statale ma con un contratto integrativo stipulato a livello regionale. Sul progetto i sindacati maggiormente rappresentativi si sono già dichiarati nettamente contrari mentre Unicobas e Anief hanno anche proclamato uno sciopero nazionale per l'intera giornata del 27 febbraio. E nella stessa maggioranza di governo le acque non sono affatto tranquille. A protestare sono soprattutto molti parlamentari del Movimento 5 Stelle che non condividono affatto l'accelerazione imposta dalla Lega. Le prossime ore saranno quindi decisive ma non soltanto per il progetto di regionalizzazione ma probabilmente anche per la stessa tenuta, per la stessa vita del governo. Questo come capite è un tema di particolare interesse, di particolare rilievo. In questi giorni abbiamo già scritto molto sull'argomento. Continueremo a farlo, continueremo a seguire la vicenda. Voi continuate a seguirci sia sul canale YouTube, sia sul nostro sito e anche sulla pagina Facebook. Scriveteci, inviateci i vostri commenti e le vostre osservazioni. Grazie a tutti.